La muraglia di Ghina Nostrale, scoperta di un rogione di due sèvi per un percorso che porta al Monte Cervillo, nata un ghiaccio, una frontiera fatta dall'uomo sparta a circa mille metri. Da Iunghi in cima al Monte Cervillo, che è il punto più alto di 1624 metri e che infatti è nata a comuna di Salice, di Gino e Gino, ci vuole andare in Rosazia, due luci, il punto da Berte per la basigliata sportiva. La strada davvero a Rosazia è splendida, la prima gullata a tepa assai, ma l'ombra che si avanza sotto un'erburatura di pini magnifichi, una salita che offre belli punti di vista non t'augruzzi. Dopo agosto si sbocca una tonavella crestula, bocca di un capizzolo, vicina in mille metri. Si seguì da crestula una bella stonda ed astubisce c'è su un muraglione continuo di bancoli alla secco e che fa già un minimo un chilometro. Certe volte è più alto che un uomo, o manco certi l'uomo, ed è proprio in buon stato. D'accordo, non sarà un muraglione, ma ferma quantunque un belde. Seguendo l'indicazione, si unia un angolo di Samuraglia, si franca e si continua il ghiaccio, sino a una croce maio, da dove l'usipo gode un panorama magnifico, verdi rosa azia e i suoi contorni. Dopo si unia l'ustazio di Libio, prima di intaccare l'ultima collata verdeo gervino, e quassù, ripetimmola un'altra volta, a vista è un vero incanto. C'è in particolare una vista eccezionale, non tra un monte tretto ore, che diceva, ciò che lo dice è un uomo in corso, tretto ore. E le scimmie che facciano sul monte, da un monte cervello, si vede proprio come lo si stacca uno dall'altro. Una gulonia di giriole, hanno vato su all'odio guassù, non trovi gli scogli più alti. Sarà qualche appuntamento da riprodugesi, a ciò che pare. In certi punti, gli scogli erano rossi dall'insettinato. Per i valandio, si volta a vedere l'ustazio, e poi dopo si può andare all'onga o viuminale, e si casca dentro una vista, mercada non è aggherta igiene, e così si vede un giro sano. A vista porta il paese, ma già da ora è affranca parecchi gattoli, e cura come la Giosivè dopo passato ci. Accesso Da Junge, in un monte cervello, andai Rosazia e trovi, all'esce di un paese, benando a Sarice, in una girata, un pannello in legno che insegna un chiasso. Tanto si lagà la vittura, vigino, e si seguì da un pannello. Innagullata, un portone in ferro a dritta insegna duello principi a udiasso. Un pannello in legno insegna Libio per un nome di stazzi nantallartubiano. Basta seguità l'indicazione gialle che presto bristo pigliano all'insù in un magnifico osco di larici. Dopo si unge in una grista piena inocca. Tanto piglia la mano dritta e seguità su un muraglione da monto di bete che merca la cima. Si gode l'uomo una vista magnifica nantà a Rosazia e a valle. Seguitando un muro si unge dopo una stonda a una grogge da due un panorama e stupendo. Di fronte nantà obiano ci sono i stazzi in Libio. Da si stazzi seguità un pedragio che colla in direzione e il cervello. Dopo il pedragio si torna a trovare i gherni che ci portano sino a cima. Voltando dai stazzi si proseguirà ovvio minare da ripigliare la vista che fa la Rosazia e così fa un giro completo. Grazie.